buongiorno si parte questo salento salento si lascia salento si lascia salento vai salento ulivi 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 speriamo che si risolve il problema qui degli ulivi con la xylella fastidiosa c'è chi è per tagliare gli ulivi c'è chi è per curare gli ulivi c'è per chi non tagliare gli ulivi insomma è un casino prendete la decisione giusta lo so più di questo che lo posso dire che si può dire prendete la decisione giusta è la solo lo salento